Dove cazzo siamo arrivati? Cazzo è una parola molto volgare. Un termine della lingua italiana di registro colloquiale basso che indica in senso proprio il pene maschile. Non è un semplice sinonimo del termine anatomico, bensì rappresenta una forma dell'espressività letteraria e popolare. Questo termine viene usato molto spesso nella lingua parlata, con la semplice funzione linguistica di rafforzativo del pensiero, ovvero un intercalare che ha la funzione emotiva di rendere un'espressione colorita o enfatica. Nel video potremmo tradurre, diciamo così, la frase in a che punto siamo arrivati, ma la stessa non avrebbe la stessa enfasi e forza emotiva. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Allora, signor Zalone, lei ha maturato un trattamento di fine servizio pari a 27.482 euro. Fatti il conto a caso. Bene. Io sono riuscita a tenere per lei, se mi firma l'accessazione volontaria del rapporto, una buonuscita di 35.000 euro. Non ci credo dottoressa. È una cifra spropositata. Se fosse vero firmerei proprio ad occhi chiusi. Il TFR o trattamento di fine rapporto è una somma di denaro corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro. Ad occhi chiusi significa senza alcuna esitazione, senza indugio, in modo sicuro e senza farsi domande. Ossia, senza dubbio alcuno. Ecco qua. Ma lei sta scherzando? Non sto scherzando. Io sì. Secondo te devo lasciare il posto fisso per 7.000 euro di merda di più sopra il TFR. Ehi, ma è del mestiere questo? No, ah? Senta. La mano a carciofo o a borsa significa in questo caso boccalone. Ossia, quando la mano a borsa, detta anche gesto del carciofo, viene fatta avvicinando la mano alla propria bocca aperta, ha solitamente il significato di ho fame. Quindi, avere fame. Ma se il gesto è enfatizzato in modo teatrale, di fronte ad una persona, allora diventa un insulto e significa boccalone. Ossia, credulone, coglione, sprovveduto, sciocco e semplicione. Devo lasciare il posto fisso per 7.000 euro di merda di più sopra il TFR. Ehi, ma è del mestiere questo? Senta, quale compito indispensabile ha svolto in questo strategico ufficio provinciale per 15 anni? No, 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 non si arrabbia. No, no, chi si arrabbia? Questo era il compito. Mettevi i timbri alle licenze in caccia e pesca per 10 anni. Poi ho cambiato. Poi, nei periodi intensi, addirittura una volta, tanto Pasqua, dovevo usare il braccio ausiliario. Ho capito. Simpatica, simpatica. Lei questi timbri non li metterà più? No. No, no, non me lo dire. Amo le sorprese. Il posto fisso. Beh, perché col posto fisso, nel simpaticissimo film cui ho vado, che vi consiglio assolutamente di vedere, è sacro. Il film racconta la storia di Checco e delle sue mille avventure in difesa del preziosissimo posto fisso, desiderato e sognato fin da bambino. Il posto fisso, in particolare quello statale, viene descritto e visto nel film come un posto di lavoro sicuro, tranquillo e remunerativo e soprattutto come una meta da raggiungere per assicurarsi un'esistenza felice e stabile. Eh già, chi non lo vorrebbe, un bel posto fisso. Ora, riguarda il video con i sottotitoli. Fammi sapere in commento se le nostre spiegazioni ti sono servite. Buongiorno. Buongiorno. Mi dica, deve conferire con la dottoressa. No, ho visto che era femmina, ha detto la segretaria. E invece sono la dirigente. E tu il segretario? Cazzo, siamo arrivati. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Allora, signor Zalone, lei ha maturato un trattamento di fine servizio pari a 27.482 euro. Ho fatto il conto a casa. Bene. Io sono riuscito a tenere per lei, se mi firma l'accessazione volontaria del rapporto, una buon'uscita di 35.000 euro. Non ci credo, dottoressa. È una cifra spropositata. Se fosse vero, firmerei proprio ad occhi chiusi. Andiamo. Ecco qua. Ma lei sta scherzando? Non sto scherzando. Io sì, secondo te devo lasciare il posto fisso per 7.000 euro di merda di più sopra il TFR. Ehi, ma è del mestiere questo, no? Senta, quale compito indispensabile ha svolto in questo strategico ufficio provinciale per 15 anni? No, 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 non si arrabbia. No, no, chi si arrabbia? Questo era il compito. Mettevi i timbri alle licenze in caccia e pesca per 10 anni. Poi ho cambiato. Poi nei periodi intensi, addirittura una cosa sotto Pasqua, e dovevo usare il braccio ausiliario. Ho capito. Simpatica, simpatica. Lei questi timbri non li metterà più? No. No, no, non me lo dire. Amo le sorprese. Grazie.